Ora che c'ho il biscotto, c'ho il biscotto! Funziona sempre! Ciao MTV! Benvenuta a casa nostra! MTV, questa è la mia sezione trucco, questo è il mio kit di sopravvivenza. MTV, parliamo un po' di scuola. Io faccio liceo artistico, questi sono alcuni dei lavori che ho fatto durante l'anno. Allora MTV non è che c'era solo Matilde, cioè c'era anch'io vorrei dire, ora ti faccio vedere, guarda. Dove stanno stai facendo? Eccomi, chi è? Tutta la mia bellezza, di spalle. Vieni qua! Guarda che c'ho, il biscotto, c'ho il biscotto! Funziona sempre! La mia cantante preferita è Rihanna, il mio genere preferito invece è il pop, il pop inglese. La mia cantante preferita è Rihanna, la mia cantante preferita è Rihanna, la mia cantante preferita è Rihanna, Grazie a tutti.